Grazie a tutti e grazie al senatore Antonio Belloni, all'avvocato Federico Belloni, al sindaco Simone Detragio che è venuto per una fugace apparazione qui ad ascoltare la nostra riflessione al Consiglio degli Avvocati e a tutti noi che partecipavano a questo incontro nel quale io ho sempre qualche problema perché si tratta di una questione di straordinaria importanza rispetto alla quale però la stragrande maggioranza degli italiani si mostrano assolutamente differenti, ignorando che se noi non riusciamo a pulire i responsabili dei diritti gravi, questi in generale, in regola, i responsabili dei diritti sono portati a rimetterli, cioè non c'è quel fenomeno di esaurimento criminale per cui uno fa una serie di strage e gli dice basta, no, purtroppo la storia ci insegna che quando le strage restano impulite e i responsabili sono al loro posto di comando, come in questo caso, allora essi sono pronti a ripetere le strage e a minacciare, quindi rispondo alla domanda che ha fatto l'avvocato Belloni, la sicurezza e la democrazia del nostro Paese. Allora, come diceva il collega, il presidente Esposito, io ho cercato di scrivere questo libro, l'ho impiegato in realtà 30 anni fa, perché nel corso dei giorni ho racconto, ma se dire, vedo questo da parte, poi li ho utilizzati e riversati in questo libro. A cominciare dalla mia esperienza che ho avuto proprio a Milano come giudice istruttore, però all'epoca io non mi occupavo di terrorismo, mi occupavo di bancarotti fraudolenti, di rapini, di furti, eccetera, di criminalità organizzata, però il giorno 12 dicembre del 1969 io mi trovavo per caso su un tram e stavo per scendere la tram e entrare nel tribunale di Milano, quando ho sentito un'esposione non forte, un po' alto, un po' di limano, da lontano, da parte di via del Duomo e quindi in curiosità mi sono portato verso il Duomo e sono entrato in Milano, quando sono arrivato, ho visto del fuoco, usciva, sono arrivato dopo 5 minuti perché la piazza mondale è a 500 metri dal tribunale di Milano e quindi molti parlavano di una caldaia che si è esposa, una caldaia centrale, io sono entrato qui su una scena avocalittica con delle persone ferite, molte, delle brandelli di braccia, di corpo, di testa, è stata una cosa terribile con un odore spaventoso di bruciato, di corpi umani e sono riuscito subito perché per la verità non sono riuscito a restare lì, anche perché poi è venuto un poliziotto che mi ha detto che se il Duomo uscì non avevo titolo per restare lì, perché poi è intervenuto un magistrato di turno con i carabinieri, poi sono arrivati dalla polizia, l'automunanza della procedura, eccetera, quindi quello è stato il primo impatto che ho avuto un po' con una straccia e ricordo che ero uscita dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura, attorno alla Fontana c'erano molte persone, prima centinaia, poi migliaia di persone, poi ho assistito a questo scontro che è avvenuto tra chi accusava i fascisti e chi accusava gli anarchici. C'è stato un pericolo che si venisse alle mani e poi alla fine, insomma, non è successo assolutamente nulla. E nel senso che, per fortuna, però lì non si capiva niente, io non sono riuscito a intendere che cosa fosse accaduto, chi fosse il mandante, quale fosse la matrice, però quello che mi ha colpito è che nei prossimi giornali avevano già deciso che dovevano essere gli anarchici. E, per la verità, il Corriere della Sera fece da parte strada di indicare questa falsa pista che montò sulla strada di Piazza Montagna, anche perché io ritenevo, avendo come punti soltanto i giornali che effettivamente gli anarchici fossero responsabili della strada di Piazza Montagna. Anche perché, diciamo, che cosa è successo? È successo che il Ministero dell'Interno, il criminale dell'Ufficio a fare il Ministero dell'Interno, che era guidato da questo fedele Roberto D'Apasso, cominciò a raggiungere in questo modo, a distruggere le prove che riguardavano i geofascisti e a costruire, e a farse prove contro gli anarchici. Ora, io quando scrivo queste cose non lascio condizionare la ideologia di alcun genere, quindi non è che partano queste considerazioni che seguono gli orientamenti politici, i partiti, eccetera. Io seguo soltanto la strada della verità, cerco di seguire la strada della verità, sapendo che posso sbagliare. Comunque, una cosa è sicuramente che in questa ricerca della strada di Piazza Montagna si sono verificati che ci sono visti. Per esempio, voi sapete che c'è stata la bomba di Piazza Montagna, che è esposta a Piazza Montagna, prima 13, poi 14, poi 17, molte volte ero anni feriti. Ma la strage della banca commerciale, che era davanti alla scala di Milano, la bomba non l'è esposta, per cui sono intervenuti degli uomini della polizia, c'era uno degli uffici a far riservare che è stato mandato da Federico Umberto D'Amato sul posto a guidare, a deviare le indagini, però venne fatta la fotografia di una borsa, di questa polizia. Questa era una polizia particolare perché aveva delle sille che li collegavano a dei negozi che avevano delle esclusive di queste tozze e si accertò, a distanza di due anni dalla mancata esplosione di questa seconda bomba che era stata messa nella banca commerciale, che la borsa era stata venduta dal negozio al Duomo di Padova a Franco Freda. Com'è che si accertò? Si accertò perché una promessa del negozio, due giorni prima dell'esplosione della bomba, vede la fotografia di Freda pubblicata sui giornali, però altre altre altre, vede la fotografia della borsa che era stata pubblicata sul Gazzettino Veneto, e riconote una delle quattro concorsi che lei aveva venduto a Franco Freda. Che cosa fece? Telefonò alla questore di Padova per avvertire e per dire che lei aveva riconosciuto come promi alla borsa venduta il 10 di ricerca del 1969 e aveva riconosciuto Franco Freda. Che cosa ha fatto questore di Padova? Ha informato il magistrato di Padova? Ha informato l'ufficio di Padova riservato. Che ha fatto il Padova riservato? Hai risalviato questa notizia. E la notizia è stata, cioè, e la prova è stata occultata, occultata. Era una prova fondamentale perché si trattava della borsa usata per portare la bomba sia a Piazza Fontana della Banca Nazionale dell'Elecchicoltura, sia alla scala della Banca Nazionale dell'Elecchicoltura, sia a Roma nella Banca Nazionale dell'Elecchicoltura e all'altare della Pate. Questo è sicuro. Ebbene, ovviamente, com'è stata scoperta questa cosa? E' stata scoperta grazie all'opera di un giornalista che è andato in Milano e poi è andato a Padova. E lì, è andato a Padova, ha chiesto notizie su questa borsa per sapere dove potrebbe essere tutto. E' andato, è andato questo giornalista che si chiama Schaul, che è andato nel negozio di questa signora e la signora gli ha detto, ma io questa borsa l'ho venduta a Francofredo due anni fa. E ho fatto questa dichiarazione, questa dichiarazione è stata occultata. Ora, che cosa è successo? Che nel frattempo, se fate un'indagine, Procuratore Generale della Polite d'Appello di Roma, un guarnera, ha sottratto il processo ai magistrati di Roma e ha trascinato il processo di Milano e l'ha trascinato a Roma. Dove però la Corte d'Astese ha riconosciuto che il processo doveva essere ceritato a Milano. E che cosa ha fatto? Ha dichiarato la propria competenza per il territorio e dopo due anni in mezzo ha mandato gli altri di nuovo a Milano. Se non che il prefetto di Milano, e che queste cose bisogna sapere, addocendo che non c'era la possibilità di celebrare il processo a Milano perché i giudici di governo Sereni si è immendata questa situazione di incompatibilità e ha chiesto alla Corte di Cassazione di scegliere un'altra Corte dove si potesse celebrare il processo. E loro hanno scelto la Corte di Catanzaro. che poi disse, chi è che ha fatto questa manovra di Cassazione? Questo Guarnera che era il procuratore generale della Corte d'Appella a Roma e che quindi ha già sottratto il processo a Milano. e poi questo stesso Guarnera ha mandato gli atti a Catanzaro. Se non che Catanzaro poi ha condannato dal castro i due neofascisti e l'agenda di servizi decreti che era questo Gianni Attini di cui non ho parlato ma sarebbe impossibile parlare molto quello che sta scritto nel libro. e comunque, praticamente, sono morti dei signori, morti del tassista Ruadi, sono scompati tutte le prove e dopo la sentenza di primo grado di condanna del castro di due neofascisti e l'agenda segreto Z, Gianni Attini, quindi ci sono stati degli assorzioni grazie all'oppressione esercitata sulla Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di contatto. E da qui è iniziata poi la serie di strage. Perché è importante perché in questa vicenda c'entra Gladi. Ma dobbiamo dire che cos'è sta Gladi. Perché Gladi sembra bella, però... Se uno senti... Grazie. Questa è un'associazione criminale, terroristica, con l'altra parte che è un'associazione terroristica con la partecipazione di servizi segreti americani, italiani, con la partecipazione della mafia, con la partecipazione dei terroristi, con la partecipazione della massoneria della P2 e con la partecipazione di politici che sono stati individuati. Noi fino a questo momento abbiamo saputo che chi faceva anche, diciamo, gli attitati erano i terroristi dietro e poi un po' e lo rossi. Che così si concentrava all'errore? Invece non è possibile. La risposta, la prima risposta viene alto in una delle sue lettere. Però all'epoca non si poteva capire questa cosa. Perché Moro diceva delle cose, diceva, forse la strage di Piazza Fontana e la strategia dell'attenzione hanno la loro origine all'estero. dove ci sono delle forze. Infatti così è. E come lo si è scoperto? Come l'ho scoperto io per caso? Trovando un documento che mi è stato consegnato da Gerardo Lampolosio, che è quello che ho fatto riferimento al Presidente Esposito, ma anche all'avvocato Federico Pelloni, cioè un documento sconvolgente in cui c'è tutta l'elencazione dei fatti della strategia dell'attenzione. Insieme ad altri due documenti basta leggere questi tre documenti trovati in una cassetta di sicurezza di Monte Perluna per capire la strategia dell'attenzione, cioè un governo mondiale invisibile che decideva, e secondo me c'è tutta una, di fare delle strage nei vari luoghi dove a suo avviso bisogna intervenire, e di eliminare dalla circolazione, di prima di tutto di creare una situazione di terrore dell'appolazione per fare in modo che l'appolazione chiedesse dei governi autorizzati. Questo era il tabbino sostenibile. Ma non è che forto viva la comune di chiedere il generale un colpo, no, dovrebbe chiedere dei governi, di centrodestra o di centri. E in questo documento si parla del gruppo Biller. Ma io per l'arrivo ho detto, ma che hai scopo? Ho detto, ma ho scritto, perché se sta scritto qua, qualcosa deve essere. E l'ho scritto senza aver capito che questo gruppo Biller esiste ancora. E che era, secondo questo documento importantissimo, il nucleo portante di questo governo immobiliare invisibile, cioè un gruppo di persone potentissime, banchieri, rocci ed altri, che decidono dove si bisogna intervenire per fare le strage, dove bisogna fare le guerre. Sembrano cose fantascendenti, ma è la sacrosante dell'Italia. Questo gruppo ha come spada, diciamo, come mezzo, dedicata la scena. Anche questa non sembrava una cosa trite e ritrita, invece, purtroppo, è così. In questo momento la scena era definita come un soggetto pericoloso, nostro pericoloso, perché aveva acquisito una potenza straordinaria, grazie al bilancio notevole, perché disponeva, nel 67, euro, alla quale risale questo documento di 500 milioni di dollari all'anno, con i quali corrompeva tutti. quindi corrompeva guidarci a chi si vede l'italiano, cioè se chi si vede l'antifatto era guidata la scena. Sia il Sifa, sia il SIG, sia il SISTE, sia il SISTI, SICULTO. Tutto quello che io ho detto, che si riferisce alla strage di Piazza Pondana, che sembra che mi sapeva tanti anni fa, va propostato fino alla strage di Via d'Amerio. E alla strage mancava, dove dovevano morire secondo i calcoli, circa 1.200, 1.300 persone, come ha dichiarato Gaspar e Spatus, insieme ad Alpo, che sono stati ritenuti attendibili da 5 magistrati, di Firenze, di Palermo, di Roma lo stesso, Piero Gaspar ha ritenuto attendibili di Spatus. Cioè, lui premette il pulsante su richiesta di un amico di Dei Nutri, che era amico di Berlusconi, e purtroppo per lui il pulsante fa l'altro. Ecco, perché c'è questa continuità? Prima di tutto perché gli esplosivi erano sempre gli esplosivi decanati. Tutti, i quattro, compavano, dicendo, io ho fatto fare le elevezze, ero in commissione antimafia e nel comitato di controllo di servizio decretto, e feci fare dei raffrutti, e appariva in tutte le strage, dalla strage di Piazza Pondana, alla strage di Via d'Amerio, sempre questo straordinario, potentissimo, esplosivo, che era il T4, che era però in associazione con altri. Non solo, ma la cosa che mi ha condito, che, ripeto, un lungi da me, l'idea di voler politicizzare questa ricerca, ma che mi ha fatto capire molte cose, è stato proprio Stefano Vellegiai. Perché? Perché Stefano Vellegiai, che era un telorista, venne accusato ingiustamente di aver partecipato alla strage di Piazza Fontana, mentre, lui era di aromatica nazionale, mentre la strage di Piazza Fontana era opera materialmente di ordine comuni, cioè, Freda e Ventuna e la Vanta. Com'è? E quindi, mi non lavo, se può accusare, però, poi alla fine, qui non c'è, però, lui era inventore di ordine comuni, il creatore, il fondatore, insieme a Giannetti. Ebbene, non c'è una strage in cui noi non ritroviamo esponenti che ho compreso la strage di Capaci. Chi è stato il bombarolo della strage di Capaci? C'è stato un ex-menonistro, io direi nuovo, Pietro Rambulla, legato a Nilo Gioe, che era amico del Capo dei Settuzi Segreti. Ma lì c'è una vera di stimola, perché è bene che bisogna prenderli con le bonde, sappiamo tutti che bisogna prenderli, poi riusciamo pure a capire delle cose. E io qualche cosa vi ho capito per la volontà, proprio a dire che bisogna prenderli un collaboratore, che si chiamava Paolo Alejandro Perini, che era un studente universitario di destra, che nel 1982, nell'arco di cinque giorni di interrogatorio, quando io ancora ero arrivato da grande fervore investigativo, di dirsi molte cose. Però io questo l'avevo preso per un pazzo, per un pazzo che non si sa mai cosa succede. Perché erano cose troppo incredibili. Dove ero detto? E gli parlava di collegamenti, di ordine medio, con la destra della democrazia cristiana. Quello di cui parla Andreotti, perché Andreotti parla di una parte della democrazia cristiana che alimentava la strategia dell'attenzione, di servizi serleti americani della CIA, in particolare fece anche il nome di Fenowink che stava allora, questo è lato, eduardo Fenowink. E parlava anche di se stesso questo alleato. E parlava di che cosa? Delle stracce che lui aveva tentato, alcune delle quali erano fallite, come la stracce davanti al Consiglio Superiore della Registratura e dei suoi incontri. Indominabili con gli soggetti. Lui aveva degli incontri personali con Gelli. Andava a trovarlo all'hotel Ex Celsio. C'era una strada che si chiama via Sicilia. In questa via Sicilia, facendo le immagini, è venuto fuori che c'era l'ina di Dio. C'erano tutte le basi operative degli organi che facevano parte della strategia dell'attenzione. C'era una base della Cia e dell'OSS, fatta messa lì nel 1944, da Gessus Saint-Léton, che era il fondatore della Cia. Poi c'era una base del SID, una base dell'Ufficio Affari Reservati, una base di clario, una base di ordine nuovo con la copertura di un'azienda commerciale fatta sulla, e una base di ordine della Bassolini, l'omba messa da 15. Ci sono i numeri, ero scritto nei prodotti, i numeri civici dove avevano sempre queste entità che operavano contemporaneamente per vendere le bombe in tutti i lato. e quindi la, diciamo, la strage della Bassolini, la strage della Taurat, la ragione esposita quando dice che è fondamentale, è giustissima. Anche perché c'è questo Francesco Evo che ha accusato gli autori della strage della Taurat di far parte di questa organizzazione di cui faceva pure lui a Tragami, che era un centro scolpione. Lui dice che noi abbiamo fatto diversi omicidi. Abbiamo fatto l'omicidio di Mattarella, l'omicidio di Natore, l'omicidio di Davide alla Chiesa, tutto il resto. l'omicidio ancora di Reina, che era quello, quel democratico cristiano che fu ucciso, la strage della Taurat, la strage di Chimnici. Insomma, quasi tutte le strage e gli omicidi commesse dalla mafia materialmente erano stati commissionati, gli omicidi e commissionati le stragi, da questa organizzazione mondiale importantissima che esiste ancora, che sta in diamine di Tragami, sta in dietro. Per quanto riguarda Borsellino, anche lì abbiamo avuto questa vergogna dell'accusa rivolta a delle persone innocenti, che poi si è scoperto grazie a Spaglius, che erano i responsabili di Venner, non solo i mafiosi, ma c'era un uomo dei servizi, perché dice Spaglius, che dice? Dice, io stavo là e c'è un uomo dei servizi che controllava quello che facevano. Questo l'ha detto, nessuno l'ha smentito, ha indicato quel nome. Poi dopo un anno, se ricordate, dice, no, forse mi sono sbagliato. Secondo te, non hai capito qualche piccola impressione, ma dopo un anno. Allora, insomma, diciamo la verità. Qui, a parte le fesserie che ha detto Bisagno, questo possiamo dire oggi, dicendo che non c'è niente e tutta una festività, mi spiace, ma non si possono fare queste cose. Cioè, il giorno in cui il Pubblico Ministero deve fare le requisitorie a Palermo, vai a ridimensionare dicendo che tutta la trattativa non c'è stata. Infatti, per la trattativa non c'è stata, là c'è stata. Ma ancora, qual è la trattativa? Ha ragione. Ma non nel senso che non c'è stato niente. No, c'è stato qualcosa di più carico. rispetto alla trattativa. Cioè, c'è stato un accordo tra lo Stato, una parte dello Stato, e, cosa vostra, per commettere alcune strage. Questo è sicuro. Ed è sicuro perché ormai entrò fuori questa cosa in maniera clamorosa e fu mandato a casa un povero di altro ministro che era una persona per bene che era un ministro che era Vincenzo Scotti, il quale, avendo conosciuto Falcone e avendo fatto un decreto che aveva compogliato nel decreto tutti i suggerimenti che noi, magistrati dell'antimafia, gli avevamo dato perché ci vedevamo spesso. Ebbene, il presidente Scaffaro, o qualunque cosa che ha detto, mi sa, intervenne che prendeva certamente quattro mesi illicitamente dai servizi segreti quando ero ministro dell'interno e quindi si faceva controllare dal cavo dei servizi segreti, Scaffaro. Ebbene, questo qui mandò via, brutalmente, il ministro Vincenzo Scotti, che era un'università, rispettabilissimo, così come mandò via lo studio dopo il ministro Martelli e ci dice, ci dice, ci dice, mancini, ricordaci. Forse in corso sul processo, alcune cose che sappiamo, noi non dobbiamo aspettare perché sta a spiegare il processo, ma è la storia che non si pare a fermare. Se stiamo all'aspettare adesso dei processi, ci siamo presi. Dunque, quando questo mancino poi dice al Norris Camporosi, dice «Di sincerità al Norris Camporosi, ti ha la trasferente della verifica, di intervenire, altrimenti io sono costretto a fare il nome di Oscar Luigi Scala sulla storia della tratta dei questi, è la verità». Quindi, lui, minacchi, questa è una intercettazione che è stata pubblicata. Allora, che significa questo? Significa che tu stai cercando di ricattare il Quirinale per dirgli, guarda che io faccio il nome di Oscar e di altri, e intervenire per evitare che io sostenga un confronto con Martelli. Ma, insomma, veramente, stiamo cercando. Queste sono cose che sono scritte nelle intercettazioni telefoniche. E quindi dimostrano queste cose, che c'è una verità nascosta che Nicola Mancini conosce e che non ha voluto dire, non ha voluto dire, ma ha minacciato di dire. Martelli, in parte l'ha detto perché ha detto, altrimenti sono costretto a tirare in ballo il nome di Oscar. Per la verità, siamo nascosti ogni tanto, Martelli ha tirato in ballo il nome di Oscar, dicendo che è stato lo stratega della trattativa. Ora, tutto questo vuol dire Martelli, non lo so vuol dire come sconti. Secondo me, ha detto la verità, è stato lo stratega dei, ed è possibile, come è possibile. Perché è una delle cose, dei servizi segreti. Ma queste cose sono tutte le, le ho scritte comunque a te. Aspetti che qualcuno fa la operetta, la citazione del dallo, ma non mi ricordo, perché è avvocato a lei, mi ricordo a tutti gli altri, non mi ricordo poco più. Però voglio dire, noi non possiamo, poi mi importa che se vedete che una cosa, dare copertura a quelli che sono i complici degli autori delle stranze. Non questo non possiamo fare più. E allora, con questo non è che credo di averlo scoperto, perché ho utilizzato, ho parlato con Vincenzo Scolte, ho parlato con Martelli, ho letto tutti gli atti della commissione antimafia, ho letto gli atti della sentenza, la sentenza dell'andata, ma comunque fanno la sentenza a Falcone, che sicuramente era destinata, la sentenza di morte della mafia, mettono una bomba potentissima, tipo quella di Capace, per ammazzare Falcone e i due giudici spizzi che stavano indagando sul vicinaggio di Daniele Spolco, che veniva dalla mafia, ma anche dai colleghi bianchi. Quindi questa bomba era destinata a fare fuori tre giudici, perché loro volevano fare delle posi spettacolari, nel senso che non si scontentavano di avvanzare questo. Dalle belle di Lina disse, noi avremmo potuto avvanzare Falcone a Roma, perché uscita dal Ministero della Giustizia, ci è stato imposto, ha detto il re da Guido, non era lui, di fare invece una cosa infrattante. Ed hanno messo la bomba a Capace, così come hanno messo la bomba a Dio Gamelio e hanno fatto morire Borsellino. Ora, queste cose raccontarle adesso non è semplice. Io non mi voglio inondare le notizie, però vi voglio dire che prima di tutto questa affermazione, questa scoperta, che i terroristi e i mafiosi hanno agito per conto di entità esterne alla mafia e ai servizi segreti. Queste entità esterne erano plurime. ci stavano i politici, alcuni li abbiamo indicati. C'erano queste organizzazioni Bilderberg, che si è riunite potentissime. O che ci stavano anche, che si è riunita questa riunione, questo l'ho fatto prima che voi. Ci stava il direttore del colmire della serie. e poi ce ne avvientano e ce ne avvano molto. Cioè, voglio dire... Chi? Una formessa. Una formessa. Una formessa. Una formessa, una formessa, una formessa, mi hai portato. Anche se non sapete. Non so ne vedete. Eh no, ma può essere così qualcuno sapete. C'è anche la formessa. Là nessuno sapete. Quanti soldati che si trova? Nessuno sapete. Invece questo gruppo Bilderberg è una cosa seria. E io ho capito che finire per questa notizia, di questa riunione del gruppo Bilderberg, non è uscita su nessun giorno. Ma come tu, il deporte pari a partecipare a questo, lo scrivo da Rigo sul Corriere della Sede. Ma non è una missione per distrazione. è un fatto scientifico, perché in queste cose, consiglio di Rospini. Lui lo scrive, è stata Dago Cipri, che io non conosco. Però, ha dato questa notizia, che ha colpito anche l'immaginazione dell'ottimo Federico Belloni. che, giustamente, e quando io ho letto queste cose dopo, ti continuo. Dicono, ci dà solo una volta, poi la devo citare due e tre volte. E infatti, nella di Stato, ci dà altre cose vicine. Perché? Abbiamo visto che cos'era il governo mondiale. Certamente non è che voglio dire che mondiale, la voglio dire. Però, questa sovrastruttura mondiale, non è che voglio dire che mondiale. Comunque, secondo me, non sa che cos'è. Qualunque, secondo me, perché lì dentro, c'era anche un giornalista di commenti di cui non posso farlo. Dico, ma tu scusate, è proprio un problema. Sì, ma io sono scritto come le altre lingue. Le altre lingue, ci stavano persone che non sapevano lì. Cioè, allora, sta CIA, esiste a loro? Sì, esiste. Chi me l'ha detto a me questa cosa? E' stata una gente, seppistena che io ho conosciuto, a Sofia, italiana. Il quale ha detto, sì, è come dice lei nel libro. Però lei sbaglia, perché non è la CIA di dipendenza del governo penegano, ma il governo penegano ha di dipendenza della CIA. Ah! Dico, va bene. Perché? Perché questo, con 500 milioni di dollari, non riuscivano a corrompere chiunque. Quindi, se noi non conosciamo bene la verità che riguarda la nostra storia recente, noi allora dobbiamo cominciare a prepararci a futuri, a futuri stragi, purtroppo. Ed io sono sicuro che la strage del, di Brindisi, quella stragetta, dove è morta quella povera ragazza, Bassi, che era una studentessa della scuola al Colonte. Lei è una strage che fa parte della strategia dell'attenzione. Sicuramente. perché? Perché? Perché appena sono arrivato dentro, perché mi ha invitato il Presidente del Liceo Classico di Brindisi, per parlare ai ragazzi che devono sapere che adesso ci sono eventuati. Gli anarchici non ci sono. Invece, la ritorno sia questa in mezzo, che erano gli anarchici greci. Ma voi vi immaginate degli anarchici greci, tutti gli uguali che erano l'uomo lì, e i greci vengono fatta la strage ma queste sono cose dell'altro mondo. Cioè, gli stessi meccanismi poi hanno sequestrato l'esplosione a cui il Signore ha vantaggiato, eccetera eccetera. L'hanno messo in un posto. E' bene questo. L'esplosione è successo. E' esplosione per il caldo. Per il progetto. Quindi, voglio dire, cari amici, e vi rispargo tutti i nordestini questa storia tristica, insomma, perché però, secondo me, si incomincia a venersi con maggiore chiarezza. Per cui, quello che hanno fatto alcuni magistrati come esposito e come anche il buon procuratore del cinema e ancora altri sono quei magistrati che oggi hanno fatto a requisitori e poi ci sta anche molto semplice per le fare la sua sentenza e cominciano a farci intravedere questa sconfuggente verità. Quello che diceva Gabrielli nella sua intervista Gabrielli non lo conosce, però ho letto l'intervistetto e il guai di queste cose è che chi ha fatto quelle strage sta ancora nei posti di domani. Che ne lo sia? Mi sta capito tutto. Gabrielli non è questo risultato che ha capito una cosa essenziale che purtroppo queste persone sono tutte ai nostri rumori, sono tutte protette. Protette a tutti di me. Eh, però io credo che già ci ha fatto questa domanda, del Presidente del Presidente del Presidente del Presidente, noi non siamo condizionali guidati e eliminati da nessuno, siamo guidati dalla vera amicus flatus e de marius amica americas. Questa è la nostra linea e allora che dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di sapere che la democrazia è l'Italia che l'ha difeso tutti i giorni, che non è un bene che si acquisisce definitivamente. Purtroppo ci sono dei momenti in cui la democrazia subisce gli assalti, gli attacchi di vari generi. Noi abbiamo una democrazia largamente imperfetta nella quale ci sono grandi giustizie sociali che sono sotto gli occhi di tutti e soprattutto abbiamo una giustizia che non serve alla funzione. perché il minore del magistrato Antonio Sposio che ha fatto la sentenza della Tavola che fa pranker e altre sentenze di mafia molto conterose e che anche di tranca eccetera sono purtroppo recensioni. Il minore non sono una regola perché qualche volta poi escono fuori i procuratori e i presidenti che con la scusa mi garantisco a soldi colpevoli e i bravissimi. però il controllo della pubblica su queste cose è importante. Quindi anche un numero esaltato però mi conforta nell'idea che bisogna informare le persone bisogna cercare di far capire la nostra storia per cercare di contrastare le forze che esistono ancora e che rinacciano per la nostra grazie. 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 Grazie.